Ciao a tutti, come gestire i blocchi emotivi? In questo video voglio parlarti di come gestire i blocchi emotivi e da dove nascono i blocchi emotivi. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere con gli abbonamenti base di partecipare alle live e con l'abbonamento seminario online e di partecipare ai miei seminari online che faccio messe in mente. Allora, che cosa sono i blocchi emotivi? Beh, l'individuo, il bambino durante una fase infantile comunque può provare delle sofferenze, delle sofferenze che nascono da che cosa? Nascono dal conflitto, dalle energie, dalla vita, dalle sofferenze che vengono comunque inflitte dalla vita fondamentalmente. Alcune paure, l'abbandono, eccetera, che possono generare veramente dei blocchi emotivi. Tutto ciò che in passato ha procurato sofferenza diventa un blocchio emotivo fondamentalmente. Lascia una cicatrice. Il dolore poi col tempo può svanire perché viene rimosso, ma la sofferenza e la cicatrice comunque resta e spingerà l'individuo nel futuro, a livello logico, a cercare di fuggire tutto ciò che può procurargli medesime condizioni di sofferenza. E questo, diciamo, questo meccanismo di sofferenza gli permette, gli consente su un piano logico e razionale di distinguere tra ciò che è buono e ciò che è cattivo, ciò che è bene e ciò che è male. E il ricordo della sofferenza rimane sempre vivido e si cristallizza, diventa un blocco emotivo e anche se sembra non produrre effetti in realtà condiziona pensieri e azioni. A differenza della sfera emotiva, della sfera logico e razionale, l'inconscio si nutre invece di tutte quelle tensioni provenienti da eventi, persone, idee che possono rievocare proprio questo passato significativo perché rappresentano un'emozione. Quindi l'inconscio si nutre dell'imprinting. A governare la scena, qua, è il meccanismo dell'analogia. Cosa significa? Significa che la sfera emotiva va a ricercare tutte quelle situazioni che analogicamente, cioè per similitudine, diciamo, è simile alle medesime condizioni del passato infantile. Quel passato è che ha saputo generare un carico tensionale significativo presentando un elevato, diciamo, il livello energetico di cui la parte emotiva si può nutrire. Ogni scelta, ogni azione che noi facciamo è influenzata comunque dal vissuto emotivo. Per cui, seppur razionalmente, diciamo, si conserva un ricordo negativo di questo, a livello di coazione a ripetere, tenderemo a rivivere quella stessa situazione. come possiamo essere felici? Che cos'è la felicità? La felicità è un equilibrio, diciamo, in cui le tensioni provenienti dall'esterno rientrano in limiti definiti tollerabili. L'infelicità, invece, si manifesta quando le tensioni emotive finiscono per essere in eccesso o anche talvolta in difetto, diciamo, perché se sei sotto dose emotiva si tende ad entrare in una sorta di depressione, per cui non c'è più un equilibrio. Questo mancato equilibrio, diciamo, genera dei problemi. Questo mancato equilibrio può essere, può scaturire da un eccesso di tensioni per cui la persona si trova a vivere degli stati emotivi eccessivi e tutti gli effetti collaterali relativi perché le emozioni non governate generano meccanismi, diciamo, compulsivi. Questo è da tenere presente. Quindi il continuo eccesso tensionale genera delle figure negative, fondamentalmente, genera una situazione negativa. Talvolta, però, succede anche il contrario, che le emozioni restano compresse, e quindi restano compresse e quindi non si sviluppano e anche questo genera comunque un malessere. Dobbiamo imparare a gestire le nostre emozioni e viverle nel modo migliore se vogliamo essere felici. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonando ti potrai scegliere quegli abbonamenti base delle lezioni mirate e con l'abbonamento Master Consulting e con l'abbonamento Seminario Online partecipare al mio seminario online che faccio mensilmente. Ciao a tutti!